Cerca, cerca tra i tuoi contatti, tra i tuoi conoscenti, amici. Trova ancora dei voti per il nostro progetto di sovranità nel nostro paese e di autonomia nel Trentino. Perché la nostra proposta è forte, senza sovranità non c'è autonomia. La guerra e la pandemia sono state frutto della stessa strategia, perché questa destra e questa sinistra sono due facce della stessa medaglia. Troverete Marco Rizzo in fondo alla scheda, perché gli ultimi saranno i primi.